Anche la gamba sta male, questo già si conta. Appena mi siedo così, ora mi alzo, subito da fuori. Allora, continuiamo a fare video di Parter Jiu Jitsu, tecniche di movimenti, e questo già dal ventesimo, trentesimo film. E oggi dobbiamo ripetere tutto quello che abbiamo provato l'altra volta, per vedere cosa si ricorda, cosa no, perché dobbiamo aumentare livello di lotta. E oggi dobbiamo продолжare tutto quello che abbiamo fatto l'ultimo tempo, rappresentare. Будo proseguire solo un urocco tecnico, oggi facciamo solo un lecione tecnica per avanzare livello di tecnica e capacità motore di nostro sportivo samuelo. Bartolink è diventato campione e tutti sono incassati perché il nostro sportivo è venuto senza fare sparring, niente, ho preso le medaglie di oro, non volevano neanche dare terza, però abbiamo preso lo set. Bene, cominciamo. Cominciamo, cominciamo. Cominciamo. Anche di piedi, piedi, piedi. Ma subito piano passa e cinture deve abituarsi. Adesso si diceva, per cambiare i piedi, 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 per cambiare i piedi. E così va bene. E così va bene. E poi con controlli con ginocchi e le gambe, sì. E poi controlli con ginocchi e le gambe, sì. Hop, hop. Trovi. Bene. Ok. Questo hai capito. Sì? Sì? Cosa dobbiamo qui? Deve essere attenti perché si deve essere molto più sensibile. Sì. 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 Diciamo, ogni movimento, ogni spostamento di avversario si deve sentirsi. Poi, devi sempre giustire la testa di avversario. Se vuoi controllarti. Sì. 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 Sempre ti attacchi bene. Sì. Vedi? Li attacco qui. Poi, sempre ti do fastidio, vedi? Ah, no. Queste piccole cose. Quando bolliamo, quando facciamo la lotta, noi, tanti palestri mostrano questo movimento per spostarsi in giro. Sì. Sinistra, destra, faccio prese. Però, nessuno non impara che dobbiamo anche infastidire l'avversario. Dobbiamo fare... Pressing. Pressing, sì. Però in un modo giusto. Da qui posso andare, controllo braccio. Posso fare anche presa, così, di braccio, controllare. Posso da qui venire, posso fare una presa, guarda. Così, controllare il tuo braccio. Tutto questo si può fare con l'aiuto del nostro corpo. Ti vengo qui. Hop, vieni. E diciamo, tu vuoi provare a fare qualcosa. No, Erika. Hai capito? Sì. Sì. E poi vediamo che l'avversario è troppo, diciamo, agile. Si sposta molto bene. Dobbiamo controllare i suoi cavigli. Diciamo che io sono qui. Se lui vuole fare qualcosa, io posso... Aspetta, rilascia. Posso prendere una caviglia, controllare da qui. Vedi? Pian piano, sono sempre con te, vedi? Controllo la caviglia, posso controllare un'altra caviglia. Diciamo, deve sempre agganciarsi. Da possibile? Sì, sì. E poi controllare l'avversario. Sì. Ehm... Ojis... Ilutore. Sì, questo è il posizione, An geworden. Ok? Ehm...